Uno studio dentistico abusivo in pieno centro a Palermo sequestrato dalla Guardia di Finanza. Attrezzato, moderno, provvisto di strumentazione medica all'avanguardia, lo studio contava anche su un assistente di poltrone e su una lunga lista di clienti. Il falso dentista, privo di laurea e specializzazione, è stato bloccato mentre era impegnato a curare un paziente. In gente il volume d'affari è al momento stimato in oltre 600 mila euro, ovviamente nascosto al fisco. La scoperta dei militari e del nucleo di polizia tributaria è stata fatta dopo appostamenti e pedinamenti avviati a seguito di segnalazioni al 117. Nell'attigua sala d'aspetto al momento del blizza altri pazienti aspettavano il proprio turno. I finanzieri hanno rinvenuto un'agenda con annotati vari appuntamenti dai 5 ai 7 al giorno e documentazione di natura medica, oltre 200 cartelle sanitarie ed extra contabile, in cui il dentista annotava i corrispettivi incassati, il tutto ovviamente senza rilasciare alcuna documentazione fiscale. Il falso dontoiatra è stato così denunciato alla Procura della Repubblica per esercizio abusivo della professione, mentre il laboratorio e le attrezzature del valore di oltre 70 mila euro, le agende con gli appuntamenti e le cartelle sanitarie sono stati sottoposti a sequestro preventivo d'urgenza.